In ballo il secondo posto tra l'Aquila e Tollese, avversarie nell'ultimo turno di eccellenza femminile, con i modi biancati a far da cornice e schieramento a specchio per i due tecnici, che si affidano al 4-4-2. Il trailer di casa di Marco, a centrocampo, si affida ai geometri di Ignazio e Pasciullo, davanti Santi Rocco, pronta a far la guerra. Sul versante tiatino il collega Deusanio dà carta bianca alla sostanza di Valeri Lazzari, in attacco, occhio al duo Angarano-Primi, fischietto in bocca per Torrelli di Avezzano, minuto 2, è subito l'Aquila, Santi Rocco a capolinea, il rumore del palo suona come una salvezza per gli ospiti. Le ragazze di Di Marco insistono, decimo, si accende di Ignazio, che illumina per Leclili, destro d'autore, rammento Piscicelli, quindicesimo, siamo dall'altra parte, Dovitio apre il fuoco, sale Tentenna, traversa, minuto 22, proteste l'Aquila, Diotato sul tiro di Leclili aumenta il volume del corpo, per Torrelli però si può proseguire. Ventiquattresimo, la Tollese viene giù, Porco aziona il turbo, Della Fornace non la tiene, il 9 ospite, arriva face to face con Salle, che risulta decisivo come il rum nel babà. Ritmi indiavolati a San Gregorio, adesso è show. Leclili per Veneziale, botta da Futsal, traversa con Piscicelli rassegnata al peggio. Trentatresimo, ancora l'Aquila, D'Ignazio, penne e righello, botta, mai ancora trasversale. Il countdown verso il vantaggio rosso-blu termina al minuto 34, sui disviluppi di un calcio d'angolo, Fiore arma il destro, palla in buca d'angolo ed è 1-0. Nella ripresa le ragazze rosso-blu scongelano subito le emozioni. Veneziale scappa, ma la stoccata dà solo l'illusione del gol. Il numero 14 sale in cattedra, quinto, porta nel mirino ed è 2-0. Minuto 31, sentiero, ancora per Veneziale, che sprega così. L'Aquila sazia, ma che? Il terzo violino si chiama Erika D'Ignazio, il numero 10. Nesraia 3 con la suola, destro tagliente, che emette fattura 3-0. Gioco, partita, incontro. L'Aquila tollese termina qui. La truppa del capoluogo chiude la stagione al secondo posto.